Ciao, sono Annelisa Mallus, vengo dalla Sardegna, da Sarroc. Niente, il mio percorso è cominciato molto presto, purtroppo. Avevo già 38 anni quando ho cominciato a perdere i denti. Naturalmente per la piorrea, oltretutto, forse familiarità, credo. Lì è cominciata la mia croce, purtroppo. Ho iniziato per sette anni, ho avuto anche una dentiera mobile, perché i soldi non erano sufficienti. Quindi ho tolti i denti, messa questa protesi mobile, si dieci tutti insieme, comunque, solo superiori, non inferiori. La mia paura era sempre che un incidente mi salta tutto, oppure che rido e salta la dentiera. Sai, molto giovane anche oltretutto per avere una dentiera mobile. Poi ho pensato, raccolto i soldi e fatto gli impianti, sei impianti. Ho portato per circa cinque anni i provvisori. Mi sono costati abbastanza, circa 6.000 euro. Poi avrei dovuto spendere ancora per i definitivi. La spesa è sempre molta. È perché non avevo i soldi per fare i definitivi. Ok? Quindi ho dovuto aspettare. Gli ho tenuti anche bene, oltretutto. Poi è successo che mia figlia, lo stesso mio problema, voleva, avendo lo stesso problema, ha deciso di venire qua. Ed è venuta lei prima di noi. È venuta? Pensando di togliere tutti i denti lei, perché aveva veramente dei problemi. E qui ha risolto il suo grosso problema. Non ha tolto i denti. Gli hanno curato le infiezioni, non infiammati, infezioni che aveva curate male in Italia. È tornata, non felice, credimi, rinatta di più. Io avevo paura. Io gli ho detto, Sara, non andare. Chissà che cosa ti fanno. Lì ti tolgono tutti i denti e poi cosa fai. No, quindi paura. Quando invece lei è tornata, ed era talmente felice, che ha convinto anche noi. E quello che mi ha convinto di più è stato il dottor Palmas. Lui, mentre parla, ti dà questa sicurezza. Non te lo so neanche spiegare che cosa ho sentito. Mi sono fidata. Infatti, nel messaggio che gli ho scritto, io sono sarda e da sarda mi fido. Mi fido di te. Quindi abbiamo iniziato il percorso. Ha iniziato il mio marito a Yashi. Ha fatto tutto lui. È stato bellissimo. Lì ci siamo trovati molto bene. È andato bene. Lui è già un anno che ha anche i definitivi. Quindi adesso ho deciso io. Ad aprile ho fatto il lavoro, i provvisori. E adesso ho finito. Guarda qua. Ho messo i definitivi. Sì, ho messo i definitivi. Che linea hai tu? Che linea hai scelto? Ho scelto superior e premium, naturalmente. Beh, visto che sono venuta qua, scelgo il meglio, naturale. È emozionata anche. Un po' stanca perché questo via vai, via prova, metti, fai. Non è facile, capisci? Quindi hai anche paura. Mi piaceranno, non mi piaceranno. Ero, dicevo, speriamo che assomiglino almeno i provvisori. Perché già i provvisori comunque mi piacevano. Ero già contenta con i provvisori. E mio marito mi diceva, vedrai che i definitivi saranno molto meglio. E infatti sì, mi sento con i miei denti, mi sento bene. E solo oggi, questa è la prima. Ma spero di continuare, no? Di continuare. Sono felice, veramente. Il dottor Talmas ci ha dato speranza. Speranza e ci ha aiutato anche nelle spese. Questo lo devo dire. Esatto. È un'altra cosa. Cioè io questi qua li sento miei. La protesi invece è mobile. Tu non la senti tua. Ti senti sempre a disagio con le persone. Hai paura a ridere. Hai paura a starnutire. Hai paura di tutto. Ok? È diverso. Non è una vita tranquilla. Sei sempre a disagio. Mentre con questi denti, con i denti fissi, niente. È un'altra cosa. Cioè sorridi alla vita. Ok? Io dicevo sempre, la spesa che io dovevo affrontare in Italia, che poi è in Sardegna, era tanta, troppa. Era quasi più del doppio. E io ho i miei denti siluetoli. E io ho detto, sinceramente, io ho... Cioè, chi ha voglia di ridere dopo che io spendo tutti questi soldi? C'è poco da ridere. Ok? Invece qui mi dà il sorriso spendendo la metà dei soldi. E anche il materiale che qua usano è diverso, sicuramente. Mio marito è partito che voleva gli standard. Mi sono battuta. Gli ho detto, se siamo qua, dobbiamo scegliere il meglio. Perché altrimenti è inutile. Cioè, lo standard... Lo standard, no. Il meglio. Anche perché è più lunga, no? Come tenuta, come vita del dente. Sì, che lo so. Per questo abbiamo scelto questa linea. Insomma, anche per questa sicurezza. Che io non devo sempre tornare in Moldavia per fare un intervento. Ok? Lo posso fare dal mio paese. Questa è una cosa molto importante. Cosa che penso che gli altri non diano. Questa garanzia. Quindi questo è molto importante. E' un valore. Esatto, esatto. Questo è molto importante. Sì, il mio sorriso è molto importante per me. Io sorriso sempre alla vita. Quindi sono positiva. Meglio dei miei denti perché i miei denti li ho visti poco. Devo essere sincera. Gli ho visti poco in bocca. E quindi, non lo so, mi sta dando sicurezza. Il mio sorriso è più sorriso. Beh, abbiamo fatto delle gitte. Organizzate benissimo. Sono stata molto contenta. Ho fatto sempre amicizia con altre persone del posto. Con lo staff di Tortalma. Bello. Bello veramente. Molto sempre disponibili. Alle esigenze nostre. Che comunque tu vieni in un altro paese. Non conosci. Hai paura di non riuscire ad ottenere magari qualcosa. Non so, sempre pronti, sempre molto disponibili. Anche la logistica. E anche te.